Gli ingressi, ci siamo dunque per il premio Giuliano Moroni, quarti! Bima e Whisper che va in testa, seguito da Smoking Joe che filtra fra i cavalli, prendendo la scia del compagno di colori, poi benvenuto all'interno Barchis, Pastor Fritz, Salar Glorious, Shukal e Mr. Sandro che chiude. Bima e Whisper in vantaggio, Smoking Joe che costringe il suo fantino a farli straordinari per tenerlo coperto, allargo in terza corsia, benvenuto con le maniche Fuchsia, giubba gialla per Salar Glorious che allargo in bianco-rosso-verde, Pastor Fritz, poi Barchis in giubba blu scura, a suo fianco in giubba azzurra col cap giallo, Shukal, a chiudere gruppo, Mr. Sandro. Si viaggia in quest'ordine con i cavalli in piegata, tutti dietro a Bima e Whisper, Benvenuto che viaggia sempre al fianco di Smoking Joe che adesso è terzo a contatto, di fuori Pastor Fritz con all'interno Salar Glorious, Barchis, Shukal e Mr. Sandro, tutti a contatto. Cavalli che passano in terzazione delle piste, sempre nello stesso ordine, con Bima e Whisper, Smoking Joe che è accompagnato all'interno Salar Glorious, di fuori Pastor Fritz, poi Shukal, Smoking Joe che non viene avanti, ed è Benvenuto che va all'attacco di Bima e Whisper, i due sono seguiti a largo da Pastor Fritz e Shukal, passa di slancio, Benvenuto e allunga su Pastor Fritz, Shukal, Mr. Sandro a largo di tutti, Benvenuto in fuga ai 250 finali su Shukal, Pastor Fritz, Barchis e Mr. Sandro, Benvenuto in chiare evidenze nell'ultimo tratto, Benvenuto che è davanti, Shukal, Pastor Fritz che provano ancora ma non ce n'è, Benvenuto, stravince il Moroni e lo fa davvero molto bene, a secondo Pastor Fritz, al terzo Shukal, poi Barchis e Mr. Sandro, Smoking Joe purtroppo solo dietro. Smoking Joe purtroppo solo dietro.